Ragazzi, i bambini vanno sempre rispettati perché non c'è bisogno di attaccare così, quindi è inutile che fate così, che tanto io non mi rimangio nemmeno una parola di quello che dite, ok, perché vanno attoccolati per bene, quindi sia chiaro, lancio un messaggio alle famiglie, ok, perché pure loro c'erano i figli, ok, quindi questo mi raccomando, non infangate sempre ai bambini più piccoli, perché sono tenerissimi, quello dico io, ok, è massima educazione, quindi per favore me lo chiedo, per favore.